In famiglia abbiamo sempre avuto un cane, sempre. Negli anni 70 ne avevamo uno che più che un cane era un diavolo, dalle sembianze di un cane. Era di media statura, nero, bellissimo, faccia da volpino, denti abbastanza pericolosi. Mio padre rientra dal lavoro, il cane è felice, gli va incontro, il mio padre avanza, sorride al cane, il cane sorride al padrone, il cane comincia a saltare, mio padre gli sorrideva, si sorridevano entrambi proprio, si sorridevano. A un certo punto mio padre, uomo mite, ma una parolaccia, sento molto compito, lo sento ridare, disgraziato, disgraziato, toglietemi sto cane. Che cosa era successo? Nel sorridersi a vicenda che il cane saltava, e mio padre sorrideva, il cane saltava, si sorrideva una vicenda. Che cosa era successo? L'incisivo del cane aveva scalfito l'incisivo di mio padre. Va bene, questo sintetico era bellissimo, efficace. Qualcuno ha qualche sensazione? Qualche altro pezzo? Fini?